Ben trovati su Raiuno, trasmettiamo ora un notiziario sul traffico autostradale. Sulla 1 tra chiuse orte sono fuori servizio le colonnine OSS in entrambe le direzioni e la stazione di rifornimento di Bisenzio sulla 1 non era GPN. Vi ricordo infine il divieto di transito dei mezzi pesanti fino alle ore 24 di oggi. Dalla società autostrade, buon viaggio. Grazie per la visione!